Ciao ragazzi, ciao a tutti! Allora oggi parliamo di un argomento che a me sta molto a cuore, che riguarda sia gli uomini che le donne, ovvero i capelli. Perché voglio parlare dei capelli? Perché in un periodo di particolare stress, come può essere questa a cui siamo appunto sottoposti, anche i capelli sono stressati, quindi magari ci capita che cadono, che non sono brillanti, quindi che sono spenti, che perdono di volume e tutto il resto. Questo dipende appunto dallo stress e da come li andiamo a nutrire. Cosa faccio io solitamente? Allora, prima vado a fare una maschera con questo prodotto, che è un gel, che è ottimo, che va a nutrire all'aloe, quindi va a nutrire i nostri capelli, quindi dall'esterno verso l'interno. Poi faccio uno shampoo con questo prodotto qua, che è fortificante, e poi vado a utilizzare il balsamo, e eccolo. Ok, quindi questi sono i tre prodotti che utilizzo quando appunto mi vado a lavare i capelli. La maschera, questa qua, la faccio una volta a settimana. Questo prodotto, che è un gel, in realtà è utilizzato, cioè io lo utilizzo per i capelli, ma ha funzioni diverse. Può essere messo come dopo sole, per le punture anche degli insetti. Io solitamente lo tengo in frigorifero, lo utilizzo anche per mia figlia, l'aiuta quando si fa male. La mia figlia ha sei anni, quindi quando si fa male, cade, non cade, aiuta tantissimo. Al posto dell'arnica utilizzo questa. Quindi, per quanto riguarda la questione dei capelli, maschera, shampoo e balsamo. Così li vado a nutrire e a fortificare, ok? Dal punto di vista esterno. Allo stesso modo, ovviamente, che cosa prevedo? Prevedo anche la nutrizione interna. Come? Attraverso il multivitaminico, ok? Il multivitaminico donna, che tra le sue funzioni è proprio quello di andare a aiutare, ok? I capelli, le unghie, quindi tutto quello che riguarda la donna a 360 gradi, ma c'è anche il prodotto per l'uomo, non vi preoccupate. Ok, maschietti, c'è anche per voi. E ci aiuta proprio a nutrire, in questo caso, i capelli e non solo, perché ovviamente andandoci a nutrire bene a 360 gradi anche i capelli ne risentono. E quindi, io spesso quando vado dal parrucchiere mi dice Chiara, ma come ti fanno a crescere così tanto i capelli? E quindi, semplicemente in questo modo, perché se noi ci nutriamo in modo corretto, i capelli crescono più velocemente, sono più nutriti, sono più belli, sono più lucidi e quindi stanno bene. Quindi, quello che faccio io è prendere tre volte al giorno un multivitaminico, che mi aiuta non solo ovviamente per i capelli, ma a 360 gradi, anche per le funzioni ormonali per noi donne. Per l'ometto consiglio questo, quindi che è il multivitaminico invece uomo. E poi vado a fare appunto maschera, shampoo e balsamo. Vi consiglio di utilizzarli e il balsamo è utilissimo anche per fare i ricci. Ok, io lo uso dopo a capelli bagnati e poi li asciugo col diffusore e questo è l'effetto. Quindi aiuta anche ad arricciare i capelli, io utilizzavo tantissime schiume e tutto il resto, ma me li seccava, ho trovato la mia soluzione. Quindi, quello che vi posso consigliare è noi tutti a casa, adesso magari abbiamo prodotti che utilizziamo per i nostri capelli, provate questi. Tra l'altro hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, provateli e poi scrivetemi nei commenti il feedback e come vi state trovando e quali sono poi i risultati per i vostri capelli, ma per il vostro benessere a 360 gradi. Perché? Perché la nutrizione è importante esternamente, ma allo stesso tempo è fondamentale una nutrizione interna. Ciao ragazzi!